Il vicepresidente ha ricevuto un rapporto sull'acquisto di materiale per la fabbricazione di armi nucleari. Voglio che guidi tu le operazioni. Priorità assoluta. Siete in un'organizzazione terroristica. Chi sei tu? Se scendi da questa macchina non posso proteggerti. Tu non hai idea di che cosa siamo capaci di fare. Secondo me una compravendita del genere non è mai avvenuta. Ho più di un agente sul campo e dicono tutti la stessa cosa. Cosa vuole sentire la Casa Bianca? Che non c'era nessun programma nucleare. Dobbiamo raccontare cose diverse. Tratto da una storia vera. C'è il tuo nome sul giornale. Dicono che sei un agente della CIA. Wilson non ha mai lavorato per la CIA ma sua moglie... È un agente segreto. Dal regista di The Burn Identity. Hai ucciso delle persone. Non ti posso dire niente. Ho in corso un'operazione importantissima a Baghdad. Vale lì. È finita. Naomi Watts. C'è il mio nome dappertutto. Il mio vero nome. Sean Penn. Sua moglie è una traditrice. Come osa parlare di mia moglie? Non la conosco. Sappiamo dove abiti. Minacciano di fare del male a mio marito, ai miei figli. Dobbiamo contrattaccare. Ci seppelliranno se non reagiamo. Ti schiacciano finché non ti portano al punto di rottura. Ma io non mi spezzo. Non arriverò mai a quel punto. Fair Game. Dal 22 ottobre al cinema. Iscriviti al canale. Non ti posso dire niente. Ma io non ti posso dire niente. Come osa parlare. Luzie. Chi seppelliranno se memoria. Ha detto via.